Buongiorno, buon mercoledì, anche se queste immagini ci fanno capire che c'è qualcosa di importante, è avvenuto prima della rotatoria alla fine di valli. Un camion, un carico di pappattate è uscito fuori strada, come potete vedere, è coinvolto in un'altra auto. Nel momento che ci hanno mandato il video, circa le 6.15 o 6.10 di questa mattina, c'era un'ambulanza che sembra che abbia portato via un autista. Apparentemente speriamo che non sia una cosa grave, sembrerebbe che non sia l'incidente brutto da vedersi, ma non dovrebbero esserci feriti gravissimi. Rimaniamo in attesa di eventuali ulteriori aggiornamenti.